È tutto pronto per la grande festa. Il Civitavecchia Calcio 1920 sta organizzando insieme ai suoi tifosi i grandi festeggiamenti per il centenario della società nerazzurra. Un appuntamento che ci si aspetta sarà indimenticabile con i tifosi uniti in cori e canti per celebrare i 100 anni dalla nascita della storica squadra civitavecchiese. L'appuntamento è per l'8 marzo al Tamagnini di Campo dell'Oro, quando alle ore 15 il Civitavecchia ospiterà la polisportiva Monticimini nella nona giornata del campionato di eccellenza. Una gara importantissima per tanti fattori tra cui la classifica, con l'11 di Paolo Caputo che crede ancora nel secondo posto lontano ora 6 punti, ma anche per i tanti ex di giornata tra cui Manuel Vittorini, Davide Cedeno e l'allenatore Marco Scorsini. Tutto questo però passerà in secondo piano proprio perché l'8 marzo, nel giorno della festa della donna, chi verrà allo stadio festeggerà la vecchia. Pochi minuti prima della partita i due gruppi di tifosi civitavecchiesi, Brigata Campo Oro e Sconvolts, faranno una coreografia speciale e per questo i tifosi sono invitati a rimanere nel settore apposito e ad evitare di stare lungo le recinzioni, non solo per motivi di sicurezza ma soprattutto per aiutare la riuscita della coreografia. Per l'occasione la società ha deciso che i tifosi potranno entrare allo stadio pagando il prezzo simbolico di un euro, ma non è tutto. Dopo la partita, come ringraziamento, sarà offerta una pericena ai tifosi presso il bar dell'impianto sportivo Tamagnini. Insomma ci si attende una grande festa con la speranza che la squadra possa fare il suo e battere la Monticimini per rendere la giornata storica indimenticabile. E chissà che proprio in un anno storico come questo il Civitavecchia non possa coronare il suo sogno chiamato Serie D. Sognare non costa nulla.